Salve ragazzi e benvenuti qui su Quei Due Sul Joystick e oggi siamo con il primo gameplay di Cat Mario. Siamo al primo livello ovviamente e noi, prima una piccola introduzione, noi questo canale lo facciamo per, come abbiamo scritto poi su YouTube, per recensire videogiochi oppure fare gameplay con un mio amico, siamo in due, fare gameplay di vari generi, anche in multiplayer. Bene, partiamo subito, ovviamente ne faremo tre o quattro e basta di livelli di Cat Mario, tra io e il mio amico, alternandoci, non più perché è un gioco, lo sapete, un gioco palloso, un gioco schifoso e quindi non sono programmatori infatti, quindi sono figli di puttana, comunque partiamo. Oh, questo va a fanculo, ecco, la stellina della Madonna, vai, violento. Ora, scusate se non c'è, fermi tutti, se non c'è la, la, cazzo si chiama, la musichetta, però non so perché, ma nel mio computer ha deciso di smettere di funzionare. Ok, e ok, perfetto, una sega, oddio, ma, oh va bene, ok, partiamo qui, oh abbiamo preso un cazzo di salvataggio, benissimo, ok, siamo qui, fermo, ok, questo gioco, ora io un po' lo so perché un po' ci ho giocato a questo primo livello, quindi voi lo vedrete un pochino, un pochino va a fanculo, guarda, guarda che mi si bagga. Oh, con un bag, con un bag ragazzi sono riuscito a sconfiggere le navicelle spaziali, le bombette atomiche, che cazzo sono! Oh, perfetto ragazzi, il primo livello è già completato, mi dispiace che ci sia durato così poco, ragazzi, però ce l'ho già giocato, quindi sappiamo un po' come andava, e che dire, il secondo lo farà il mio amico, e dopo il terzo ritornerò io a farlo. Scusate, come ho detto, per questa cosa, lasciate un mi piace, iscrivetevi, mi raccomando, e... Ciao! Ah, ci saranno anche gameplayi, ora, domani mi sembra farò anche un gameplay di Far Cry, e viceversa. Se volete un'altra serie di Kat Mario, oppure Kat Mario 2, ditemelo, però non so se ve la faccio, perché le come ho detto al primo, all'inizio di questo video. Grazie, ciao!